La realtà è che il nucleare, il ritorno dell'Italia al nucleare, è il fatto fondamentale per avere energia economica, indipendente e verde. E oggi un quarto dell'energia europea, elettrica, è prodotta col nucleare e si stanno costruendo 60 centrali nucleari. Noi stiamo perdendo questo treno. Allora, siccome il governo non si muove, noi facciamo una legge di iniziativa popolare, una proposta di legge di iniziativa popolare, che da oggi potete firmare tutti sul sito di azione degli altri partecipanti a questa iniziativa, perché dobbiamo dare il segnale che non è più possibile che gli italiani paghino energia tanto, inquinino tanto e siano dipendenti moltissimo da paesi che spesso hanno problemi e quindi fanno salire enormemente il costo dell'energia.